Nella prossima appassionante puntata di Terra Amara in onda sabato 27 gennaio, assisteremo a una serie di eventi ricchi di tensione e sorprese. La scena si apre con Ghaffur e Rashid, in procinto di recarsi al Catasto per una faccenda importante. Proprio in quel momento, vengono raggiunti da Sanye, che è ancora all'oscuro di una notizia inaspettata. La terra che hanno recentemente acquistato ha subito una rivalutazione significativa, aumentando il suo valore di ben quattro volte. Sanye, nonostante la sorpresa, non perde l'occasione di elogiare ironicamente il marito Ghaffur, facendo notare come, dopo una lunga serie di decisioni sbagliate, finalmente abbia fatto una scelta azzeccata. Tuttavia, Ghaffur, sentendosi sottovalutato, reagisce con offesa, lamentandosi della mancanza di fiducia da parte della moglie. La tensione tra i due si intensifica quando Sanye gli ricorda la necessità di restituire una cospicua somma di denaro presa dal conto di Uzum, evidenziando ulteriori fratture nella loro relazione. In questo contesto già carico di tensione, irrompe in scena Sermin. Senza mezzi termini, ordina a Ghaffur e Rashid di occuparsi della rimozione della sua spazzatura. Rashid, in un gesto di deferenza, si avvicina a Sermin, baciandole la mano e benedicendola. È a questo punto che Ghaffur rivela a Sermin che il terreno da lei consigliato per l'acquisto è ora un'area edificabile, il cui valore è quadruplicato, trasformandoli in ricchi imprenditori. Sermin, completamente sconvolta e infuriata, in colpa Fusum per aver suggerito quello che pensava fosse uno scherzo, ma che si è rivelato essere un consiglio prezioso. Dubitando delle parole di Ghaffur, decide di verificare personalmente la situazione contattando il Catasto. Con grande stupore, la notizia dell'aumento del valore del terreno viene confermata. Betul, profondamente turbata, confida a Kadir il suo crescente disagio a causa del rimprovero ricevuto da Zuleya. La sfiducia di quest'ultima pesa su di lei, facendole temere un'attenta sorveglianza che potrebbe mettere a rischio i loro piani segreti per impadronirsi dell'azienda. Kadir, con la sua consueta lucidità, sottolinea l'errore di Betul. Avere un obiettivo ambizioso senza un piano concreto per realizzarlo. Consiglia calma e riflessione, suggerendo di elaborare una strategia più solida e meno avventata. Il clima di tensione sale ulteriormente in una scena successiva, ambientata in una pasticceria. Fusum è lì con un'amica quando improvvisamente arriva Sermin, carica di rabbia e risentimento. In un gesto drammatico e sconvolgente, Sermin sputa in faccia a Fusum, accusandola di essere un serpente e incolpandola per l'improvviso arricchimento di Gaffur. La rabbia di Sermin esplode in una sfuriata contro Fusum, culminando con una minaccia di morte. Fusum, tuttavia, non si lascia intimidire. Rispondendo con feroce determinazione, rimprovera Sermin per averla sempre sottovalutata, definendola sciocca, ma sottolineando ironicamente come, in realtà, la vera sciocca sia Sermin stessa. La scena raggiunge il suo apice quando Fusum si rivolge alla folla che si è radunata attorno a loro, attirata dalle urla, e rivela il vero volto di Sermin Yaman, in un tentativo di rovesciare la narrazione e mostrare a tutti la natura manipolatrice e vendicativa di Sermin. Zuleya che visita Fikret a casa sua, portando un messaggio di nostalgia e di riconciliazione. Le parole di Zuleya sono cariche di emozione quando esprime quanto la sua assenza sia avvertita da tutti e lo invita a superare insieme i problemi che le affliggono. Fikret, da parte sua, confessa di sentirsi frustrato ogni volta che tenta di proteggerla, solo per essere respinto da Zuleya, che afferma il suo bisogno di indipendenza e di non voler pesare su di lui. La conversazione si approfondisce quando Zuleya ammette di aver sempre cercato Fikret nei momenti di difficoltà, come quando gli animali furono avvelenati. Ma la sua assenza a Istanbul in quel momento critico l'ha fatta arrabbiare molto, in particolare con Betul. Zuleya si apre poi, esprimendo il suo profondo bisogno di avere Fikret al suo fianco, non solo come un protettore ma come un amico fidato. La sua richiesta sincera di non voler essere abbandonata trova eco nel cuore di Fikret, che le assicura che non le volterà le spalle. In un cambio di scenario, Zuleya e Fikret decidono di organizzare un picnic per i bambini e ammine, creando un momento di distensione e felicità. Porta tutti in un incantevole spiazzo immerso nei boschi, dove Fikret allestisce un'altalena per il piccolo Adnan. Mentre il barbecue sfrigola, tutti si divertono, creando un'atmosfera di grande armonia e condivisione. Ridono, scherzano e godono della compagnia l'uno dell'altro in un momento di pura spensieratezza. Tuttavia, l'idilio viene turbato dall'inaspettata presenza di Akan, che osserva la scena da lontano, nascosto tra gli alberi. Betul, che apprende della gita organizzata da Zuleya e Fikret, resta profondamente irritata per non essere stata invitata e turbata dalla costante presenza di Zuleya in ogni aspetto della loro vita. Betul si confida con sua madre Sermin. Sermin, sempre pronta a cogliere l'occasione per avanzare i propri piani, avverte Betul che deve agire rapidamente per influenzare Fikret. Le ricorda che il loro obiettivo finale è accedere alle ingenti ricchezze di Fecheli, e che perdere l'appoggio di Fikret significherebbe dire addio a quelle ambizioni. Dopo il rientro dalla gita, Zuleya accoglie l'occasione per ringraziare Fikret per la meravigliosa giornata trascorsa insieme, sottolineando il valore di quei momenti di serenità. Tuttavia, l'atmosfera si complica quando Betul raggiunge Fikret mentre sta per andarsene. In preda all'ansia, lei gli rivela di aver ricevuto notizie che Akan Gumusoglu si trova in un albergo a Mersin. Questa informazione cattura immediatamente l'attenzione di Fikret, che decide di accompagnare Betul per controllare la situazione. Akan si trova a Mersin, non lontano dall'hotel dove si dirigono Betul e Fikret, ma invece di concentrarsi su questioni urgenti. È assorto nella scelta di anelli con brillanti presso un lussuoso gioielliere. Questo dettaglio aggiunge mistero ai suoi piani e intenzioni, lasciando gli spettatori a interrogarsi sulle sue vere motivazioni. Intanto, Betul e Fikret arrivano a Mersin e si dirigono verso un hotel fatiscente, un luogo inaspettato per una persona della statura e ricchezza di Akan. Fikret è scettico, non credendo che Akan possa soggiornare in un posto del genere, ma Betul insiste, suggerendo che potrebbe essere un nascondiglio per rimanere incognito. Mentre stanno per entrare nell'hotel, Betul esprime preoccupazione che possa essere una trappola e suggerisce di chiamare Cetin per assistenza, ma Fikret, determinato a scoprire la verità, decide di proseguire da solo. Raggiunta la reception, Fikret riesce ad ottenere il numero della stanza di Akan. Fa irruzione, ma la stanza è vuota. In un gesto audace, decide di aspettare all'interno della stessa camera di Akan, anticipando un confronto diretto. Parallelamente, Akan, tornato a Kukurova, si muove in maniera inaspettata. Invita Zuleya a cena per discutere in privato di un argomento importante. Questo sviluppo rappresenta una vittoria per Betul, che riesce astutamente a ottenere ciò che desidera, l'attenzione e la vicinanza di Fikret. Zuleya e Akan si incontrano in un ristorante elegante e Zuleya si rende subito conto che Akan ha affittato l'intero locale per loro due. Un gesto che sottolinea il suo desiderio di privacy e intimità. L'atmosfera romantica è accentuata dall'esibizione di un violinista, che suona una melodia incantevole mentre Akan osserva Zuleya con un misto di ammirazione e fascino. Parallelamente, Fikret e Betul sono ancora nell'hotel, in attesa di Akan. Betul, in preda al disagio causato dal caldo, si toglie la giacca, rivelando una canotta di pizzo. Mostra frustrazione per l'attesa e esprime il sospetto che Akan possa essere già fuggito. La tensione aumenta quando, improvvisamente, sentono che la polizia è arrivata nella stanza accanto per arrestare un uomo accusato di rapimento. Curiosi, escono per vedere cosa sta succedendo. E in quel momento arriva anche un fotografo, aggiungendo un ulteriore elemento di caos e incertezza alla scena. Intanto, al ristorante, Zuleya si sente sempre più imbarazzata e tenta di distogliere la conversazione verso argomenti meno personali, come il loro progetto edilizio. Tuttavia, Akan sembra distante e assente, fissandola intensamente senza rispondere. Infine, in un momento di profonda emotività, si alza, guarda Zuleya negli occhi e le rivela di essersi innamorato di lei, culminando il loro incontro con un bacio appassionato. Akan, dopo aver baciato Zuleya, si rende conto del suo imbarazzo e le dichiara nuovamente il suo amore, confessando di non essersi mai innamorato prima. Zuleya, turbata, gli risponde che non può ricambiare i suoi sentimenti, trovandosi in una posizione difficile e confusa. Contemporaneamente, nell'hotel, la situazione si complica ulteriormente. La madre di una ragazza accusa un giovane di aver rapito sua figlia, scatenando una violenta zuffa. Fikret interviene prontamente, dimostrando coraggio e leadership nel riportare la calma. Questa scena non passa inosservata e viene catturata da un fotografo che ritrae Fikret e Betul insieme. Successivamente, in camera, Betul esprime ammirazione per il modo in cui Fikret ha gestito la situazione. Nel frattempo, Zuleya confida a Akan di aver chiuso con l'amore e di averne paura. Akan, tuttavia, la sfida dicendo che l'amore non si può controllare e che può sorprendere in qualsiasi momento. Ammette di avere anche lui paura, ma che ciò non lo ferma dal voler esplorare i suoi sentimenti per lei. Chiede a Zuleya di fidarsi di lui, sostenendo che quello che prova è un amore vero e duraturo. Fikret e Betul si trovano in una situazione tesa, aspettando da ore l'arrivo di Akan in una stanza d'albergo. Preoccupato per la sicurezza di Betul, Fikret insiste affinché lei se ne vada, ma Betul rifiuta, scegliendo di rimanere al suo fianco. In un momento di vulnerabilità, Betul confida a Fikret i suoi sentimenti, chiedendogli se la notte che hanno trascorso insieme è stata un errore o se prova qualcosa per lei. Fikret, però, è indeciso e confuso a causa dei recenti eventi turbolenti nella sua vita. Betul, cercando di nascondere il proprio disagio, gli chiede di dimenticare la sua domanda e si sdraia sul letto, mentre Fikret rimane sveglio, armato e pensieroso, osservando Betul addormentarsi. Durante il viaggio in macchina, Akan cerca di alleggerire l'atmosfera con un aneddoto personale. Racconta di essersi innamorato una volta alle elementari di una bambina di nome Zeynep, che poi lo prese in giro. Arrivati alla villa, Akan confessa a Zuleya che non aveva fiducia nell'amore fino a quando lei non è entrata nella sua vita, prendendo possesso del suo cuore. Nel frattempo, Zuleya si confida con Lutfi sulla sua confusione emotiva. Le racconta di Mehmet, che le ha dichiarato il suo amore, e del suo timore di iniziare una nuova relazione, avendo amato solo Yilmaz in passato. Lutfi cerca di incoraggiarla, sottolineando che Yilmaz è morto e che Zuleya, ancora giovane, ha il diritto di innamorarsi di nuovo. Zuleya, tuttavia, esprime preoccupazione per i suoi due figli e la necessità di essere prudente. Più tardi, rimasta sola, Zuleya riflette sulle parole di Akan, mentre lui, da qualche parte, pensa a lei, ammirando l'anello brillante che ha acquistato per lei. La giornata inizia con un malinteso in hotel. Il portiere indica a Fikret un uomo che sembra corrispondere alla descrizione di Akan Gumusoglu. Tuttavia, l'uomo chiarisce rapidamente che c'è stato un errore. Il suo cognome è simile ma non lo stesso. E la reception ha commesso un errore di trascrizione. Fikret, realizzando l'equivoco, si scusa con l'uomo. Anche Betul si scusa con Fikret per averlo coinvolto in quella situazione, ma lui la rassicura che non è colpa sua. Intanto, all'officina di Kadir, si verifica un episodio violento. Un uomo arriva e inizia a prendere in giro un giovane lavoratore, per poi passare a picchiarlo brutalmente. Kadir interviene prontamente, fermando l'aggressore e portandolo nel suo ufficio. Quest'uomo, di nome Vahap, spiega a Kadir che voleva dimostrare la sua forza. Kadir lo avverte di non fargli pentire di averlo invitato lì, rivelando che ha bisogno del suo aiuto a causa dei piani falliti per colpa di Akan. Vahap suggerisce di uccidere Akan, ma Kadir insiste che devono aspettare. La situazione si complica ulteriormente quando Akan entra nella stanza. Kadir, di fronte a Akan, rimprovera Vahap per l'aggressione al giovane lavoratore. Akan chiede di rimanere solo con Kadir e Vahap esce, ma rimane dietro la porta per ascoltare la loro conversazione. Kadir, in una conversazione con Akan, esprime il suo senso di isolamento dopo la perdita di Bedo, confidandogli che si sente solo. Considerando Akan suo fratello, Kadir spera di trovare in lui un alleato e un sostegno. Akan, tuttavia, lo sfida, facendogli notare la natura pericolosa del fratello che ha commesso numerosi omicidi. Kadir, conscio dei rischi, afferma che sotto la sua supervisione Vahap non compirà azioni violente, assicurando che sarà sotto la sua responsabilità. Intanto, Zuleya e Akan si trovano a dover interagire in un contesto professionale, incontrandosi mentre entrano in azienda per una riunione importante. Akan coglie l'occasione per affrontare con Zuleya la questione della loro vicinanza, domandandole se si senta imbarazzata nel camminare accanto a lui e se teme i pettegolezzi. Zuleya, però, nega di aver notato la distanza tra loro. Quando Sabi annuncia l'arrivo del consiglio di amministrazione, Akan, con un sorriso, chiede a Zuleya se possono camminare insieme. Lei accetta, rispondendo al suo sorriso, un gesto che segna un momento di complicità e vicinanza tra i due. Zuleya e Akan sono impegnati a presiedere una riunione cruciale del consiglio di amministrazione, dove insieme ai consiglieri stanno valutando una serie di proposte di affari. La situazione prende una piega inaspettata quando Betul entra nella stanza con l'intenzione di partecipare alla riunione. Tuttavia, Zuleya le fa notare che l'incontro è riservato solo ai membri del consiglio e che verrà informata in seguito sulle decisioni prese. Betul, visibilmente spiazzata e contrariata da questa esclusione, è costretta a lasciare la stanza. Contemporaneamente, alla villa, si svolge un evento più leggero ma che porta a conseguenze impreviste. Un gruppo di mercanti ambulanti arriva con i loro carri per vendere merce. Sermin, interessata, li accoglie nella proprietà. Mentre è impegnata a valutare gli acquisti proposti da una venditrice, il cancello della villa rimane aperto e incustodito. Adnan, incuriosito, approfitta dell'occasione per avvicinarsi a un ragazzino che suona un tamburo e sale sul suo carro per unirsi a lui nella musica. Nel frattempo, Sermin conclude gli acquisti e i mercanti partono, ignari della presenza di Adnan tra loro. Queste anticipazioni delineano un episodio ricco di eventi significativi. Da un lato, Akan sembra essere sempre più serio nei suoi sentimenti verso Zuleya, al punto di aver acquistato un anello per lei. Dall'altro lato, una nuova sventura si profila all'orizzonte per Kukurova con la scomparsa di Adnan. Un evento che promette di scatenare una serie di reazioni e conseguenze tra i personaggi.